Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 sulla direttissima, un chilometro di coda tra Aglio e Firenzuola in direzione Bologna per un veicolo in avaria. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, rallentamenti per lavori tra Fornacette e Il Bivio per la statale. Sulla Fipili, personale su strada tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata per lavori tra Rio Torto e Follonica Est in direzione Roma. Sulla statale 3 Bis Tiberina, nevicata in atto nel tratto compreso tra Valsavignone e Borello. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Giardinetto e Popiglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!